Prima di iniziare il video ragazzi vi volevo parlare di questo torneo che ci sarà martedì 28 febbraio all'Euronics di Roma in due location diverse via Ugoietti 508 e via di Torre Spaccata 110 per iscrivervi ragazzi dovete andare sul sito come vedete in basso a sinistra di www.esports-academy.it da lì vi potete iscrivere, vi dovete iscrivere voi e il vostro compagno perché sarà un torneo di 2 contro 2 la coppia vincitrice sia di via Ugoietti che di Torre Spaccata riceverà due console PlayStation 4 più due pad a coppia inoltre però tutti i partecipanti ragazzi potranno avere la prevendita di FIFA 20€ ma ciò che significa che tutti i partecipanti del torneo avranno la possibilità quindi di acquistare FIFA 18 a soli 19,99 quindi nel senso che se voi partecipate avrete il gioco a 19,99 non è la prevendita che poi dovete dare il resto quindi il gioco sarà in totale solo 19,99 cioè quindi a settembre quando uscirà andate lì con lo scontrino dentro l'Euronics 9 di Roma e praticamente potrete prendere FIFA 18 così a quel prezzo però soltanto per chi partecipa al torneo detto questo io sarò a via di Torre Spaccata quindi regà vi invito a registrarvi dai e guardate l'inizio e la chiusura delle registrazioni cioè l'inizio del torneo sarà alle 15 quindi venite lì più o meno per le 14 e niente ci vediamo al torneo Allora Wolfini e bentornati nel nuovo Wolfman 2 Channel siamo tornati con un nuovo video siamo tornati con la nostra Weekend League ragazzi questa è la formazione che utilizzeremo che siamo costretti ad avere i giocatori della Bundesliga e della Liga Spagnola in porta abbiamo Farman ragazzi Farman è da un bel po' di settimane che me lo sto portando avanti perché secondo me è un ottimo portiere è una conferma cioè io continuo proprio a portarlo perché mi piace molto e para certi palloni interessanti che altri portieri non riescono a fare ovviamente poi si prende sempre gol difensore centrale sinistro non può esserci che lui Boateng ragazzi titolarissimo non ho in realtà parole per definirlo perché è il giocatore perfetto il difensore perfetto e accanto a lui ovviamente Alaba che oltre ad essere il compagno di coppia nel Bayern Monaco ovviamente lo è anche su FIFA perché è il terzino sinistro della Bundesliga probabilmente più forte in difesa come compagno c'è la novità Lemos che non so neanche se si dileggia Lemos Lemos insomma praticamente mi spiego il motivo lo avevo nella rosa quindi non ho voluto comprare altri difensori ho semplicemente preso lui e ho detto vabbè proviamo a fare questa Weekend League per ora non è andata male siamo 7-0 quindi non male e a destra Carvajal Carvajal che anche lui lo avevo nella formazione quindi ho detto è inutile mandarlo cioè andare a comprare che ne so un Juan Fran un De Marcos anche perché è buono uguale quindi più o meno al centrocampo schieriamo Isco regà e Isco lo tiriamo fuori sempre quando ci sono queste cose particolari non gioca mai titolare ma solo quando abbiamo delle restrizioni o cose del genere però è un ottimo centrocampista con accanto Casemiro che anche lui li stiamo facendo fare un bel po' di partite ragazzi infatti sono abbastanza non mi dispiace Casemiro è un pochino l'entuccio però è un bel centrocampista recupera tanti palloni e a sinistra non può mancare Vidal che a quel punto poi fa intesa con Alaba e Boateng Vidal è praticamente il nostro Pogba in questa situazione a me piace molto anche se non è tantissimo utilizzato non lo so perché davanti Neymario con il capello tutto bello biondino molto rapido bel dribbling un pochettino a volte mi lascia a desiderare col tiro con il sinistro però regà non si bocchiate tutto già è fortissimo di suo e a destra Garrett Bale che il gallese ci fa le peggiori galoppate però anche lui con i tiri a incrociare non è fenomenale però a sto punto forse conviene invertirli e davanti ragazzi mettiamo lui il bomberone Luigi Suarez è una bestia fa un botto di gol infatti vedete proprio dalle statistiche e penso che sia l'attaccante che non me ne priverei proprio quasi mai quindi ragazzi con questo è tutto la panchina è quella lì con Renato Sanchez Sembolo Tiago Alcantara però insomma è fatta un po' così di convenienza vi invito a lasciare un bel like arriviamo a mille mi piace la prossima settimana vi porterò la mia formazione sicuramente sarà diversa con i premi quindi ragazzi noi ci vediamo presto con un prossimo video